Perugia combatte, vince contro la Piacenza che ha mostrato buone caratteristiche. Sì, combatte, vince contro la Piacenza, ci ha fatto vedere i denti e noi siamo scappati via, nel senso che loro sono stati bravi a mettere in campo la loro pallavolo e credo che noi non siamo stati altrettanto bravi a reagire alle cose buone che oggi Piacenza ha messo in campo. Merito a loro che hanno fatto la loro partita, forse qualche riflessione anche noi che dobbiamo farla per proseguire il nostro cammino su playoff, quindi comunque purtroppo il quinto posto ormai credo che sia cosa fatta, credo, non ho visto la classifica adesso. Quindi di sicuro dobbiamo continuare ad andare avanti, il tempo ce n'è poco, siamo già pronti con i bagagli per Mosca, non li avevamo assolutamente preparati nella testa prima di questa partita, però di sicuro Piacenza ha fatto il suo lavoro, noi sicuramente potevamo far meglio. Grazie. Giovanni Riparo sulla banca.